carissimi amici torniamo sul caso denise ci siamo di promesse di rimanere su fatti concreti così proseguiamo quindi non parliamo di mitomani non parliamo di cose astruse parliamo di qualcosa di nuovo che non abbiamo mai qui sul canale affrontato direttamente le accuse alle indagini così come condotte e per dimostrare come gli indizi che portano alla pista familiare della famiglia allargata insomma sono piste che hanno trovato d'accordo i procuratori del passato e un po tutti perfino la cassazione quindi il fatto di avere adesso un gip che debba decidere sia scriviare un caso così complesso mi sembra veramente fuori luogo e qui non parliamo delle accuse della dottoressa angioni delle um e pm che possono sembrare a qualcuno magari un po un po tirate dice ma forse è vero forse non è vero bene parliamo questa volta dei sostituti procuratori del procuratore generale della repubblica sia silvio asciuto che del procuratore di pisa alberto di pisa allora ascoltatemi ascoltate bene questa questo 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 procedimento perché vorrei che questo video fosse condiviso molto condiviso perché è importante ora la procura di mansale è è stata la procura retta da paolo borsellino quindi una procura nobile non fosse altro perché è passato questo nome che è diventato un martire della giustizia e quindi ha bisogno di onore anche questo nome ebbene nel 2004 silvio asciuto procuratore della repubblica di marsala fino al 2007 compreso inizio del 2008 che praticamente nota e afferma una profonda spaccatura nel commissariato di marsala dell'epoca che conduce le indagini quindi diciamo un avallo diciamo di quello che poi ha denunciato la dottoressa angioni ora la stessa brava giornalista ilaria mura in un servizio afferma che vi era una profonda spaccatura tra il procuratore silvio asciuto e la polizia giudiziaria quindi vi era questa spaccatura fra il procuratore silvio asciuto e la polizia giudiziaria a giugno quando è stato sentito quel poliziotto il peppe in procura egli fra l'altro ha ricordato come asciuto nei corridoi gridasse dicendo voi sapete dove la bambina andate a prenderla perché aveva questa sua intima convinzione che ci fosse qualcosa che non andava perché si sapesse la dinamica anche se il poliziotto dice che loro hanno fatto il possibile silvio asciuto ha sempre creduto nella pista familiare e all'epoca credette anche nella pista del pentito giuseppe d'assaro sulla fine di denise quindi era propensa a credere che avesse fatto una brutta fine ma sempre collegandola con la pista familiare quindi in effetti il rapimento sempre della famiglia allargata e poi e poi ci sta questa confessione giuseppe d'assaro a cui lui credette comunque nel 2007 nel 2007 il procuratore asciuto dice testualmente abbiamo cristallizzato quindi l'ambito della famiglia allargata quindi è cristallizzata questa cosa tant'è che poi lo confermerà anche la Cassazione quindi abbiamo cristallizzato l'ambito della famiglia allargata e c'è una svolta nelle indagini nei mesi di luglio e di agosto le indagini hanno subito un grandissimo impulso gli ignoti complici del rapimento non sono più ignoti ma sono noti posso dire che la direzione del fatto è in una provincia limitrofa quindi alludendo a palermo quindi alludendo che fosse stata portata lì quindi si ricollega un po anche a quei spostamenti notturni di anna corona e qui si sono evoluti i fatti che già conosciamo quindi il procuratore asciuto credette al pendito giuseppe d'assaro che disse che denise era morta a causa di un eccesso di sedativi addirittura a casa della sorella di pietro pulizzi quindi quella rosalba pulizzi a palermo ora date che non furono trovati riscontri a tutto ciò anche perché d'assaro è un pluri pregiudicato per cui non si non si dette molto risalto a questa cosa perché non c'erano riscontri ma ovviamente anche non dando poi riscontro a ciò preferendo non seguire questa pista però tutto parte dalla cristallizzazione di tutto ciò che è avvenuto fino al momento in cui non si sa che fine ha fatto la bambina quindi comunque anche il procuratore asciuto può non essere sicuro della fine che ha fatto ma di tutto il precedente fino al rapimento per lui è cristallizzato e la stessa linea la stessa linea amici miei nel 2008 quando arriva il procuratore generale alberto di pisa alberto di pisa guadiuvato da due sostituti procuratori si è ripetuto sostanzialmente lo stesso copione con le fasi di esapimento che erano sempre quelle quindi non si poteva sapere il destino ultimo della bambina ma veniva prediletta dal procuratore di pisa la pista dei rom la pista che portava a quell'avvistamento di milano a cui lui credeva quindi anche dopo la soluzione di jessica anche dopo la soluzione il procuratore di pisa si dice convinto della colpevolezza delle di jessica della mamma perché perché il movimento è chiaro per odio verso piera verso la bambina e tutto ciò è cristallizzato nella castazione che pur dibattendo la soluzione per insufficienza di prova però cristallizza il movente seguitemi non fa niente che dureremo molto in questo video non fa niente dice alberto di pisa testualmente testualmente sono sicuro che jessica ha prelevato la bambina data è data loro qualcuno ha visto ma non parla poi è stata portata subito da qualche parte probabilmente a casa del padre come si dice come avevo ipotizzato anche io lo ipotizza anche lui che probabilmente portata a casa del padre piero polizzi che comunque forse già lo poteva sospettare visto che andò a casa sua e non lo trovò non lo trovò quindi scattò qualche altra cosa cioè ciò si evince dalla intercettazione dall'intercettazione che quella famosa intercettazione al commissariato di polizia fra Anna Corona e la figlia quando jessica mentre parlava abbassò il tono della voce il tono della voce e disse io a casa ci apportai io a casa ci apportai cioè io a casa gliel'ho portata come per dire un significato come per dire io che ci posso fare se poi lui non ci stava insomma io a casa ce l'ho portata dopodiché sicuramente è stata portata altrove dice il procuratore con il coinvolgimento sottolinea con il coinvolgimento di Gaspare Galeb perché lui dice sicuramente lui stava lì dimostrato che stava lì e dove si vedevano tutti i giorni quindi sarà stata portata probabilmente a casa di Anna Corona poi successivamente c'è stata un'evoluzione che lui pensa data ai rom visto che poi entro meno di due giorni un giorno e mezzo questi rom sparirono da Mazzara quindi è una cosa molto grave perché questo procuratore generale di Mazzara lo dice ancora oggi questa e lo ribadisce con forza quindi immaginate se lui fosse adesso lui il procuratore altro che archiviazione altro che archiviazione chiederebbe di inviare giudizi invece no invece no ora questo che lui ha detto di Gaspare Galeb fa venire in mente questa recente intercettazione fra la nonna Jessica Anna Corona dove Asparino sta sempre appeso e Anna Corona dice tiriamolo verso di noi e la nonna dice che ha puntine puntine che ha cioè che deve dire pure lui l'ha presa basta che parla con Asparino ora stranamente questo questo ultime conversazioni poi non risultano ufficialmente ma risultano trascritte trascritte materialmente dai carabinieri che dicono di averle sentite trascritte e poi in secondo momento non c'è né traccia ma allora dalle due l'uno come abbiamo detto o questi carabinieri si sono inventati tutte vanno processate oppure qualcosa è successo sono ufficiali dei carabinieri che non credo che se lo siano inventate queste parole poi torniamo indietro torniamo ancora al procuratore di Pisa che dice il coinvolgimento di Anna Corona è dimostrato dalla sua fuga diciamo precipitosa dall'hotel su giro poco dopo le 12 come è stato poi dimostrato sia dalla perizia sulla firma sull'orario e sia dalla collega fortunato che ha confessato mentre lei continua tutt'oggi a dire no io fino alle 15 sono state sono state là ma allora se se ne è andata come se ne è andata e dico ma se fosse stata estranea e lo dice anche lui se fosse stata estranea non avrebbe mai potuto sapere cosa era successo qualche minuto prima o una mezz'ora prima o un tre quarti d'ora prima non lo poteva sapere stava lontano quindi questa fuga precipitosa questa fuga è una dimostrazione implicita che sapeva non aveva senza andare via poco dopo un mezzo giorno precipitosamente come è stato dimostrato in effetti se lei lei sapeva in una condizione di non aver saputo ancora niente del fatto della bambina invece come mai questa cosa qui e quindi ecco che di pisa di pisa altro che se fosse ancora lui il procuratore di mansala e continua ancora continua ancora dice da qui la gravità della strana perquisizione della casa di Gianluca Pisciotta che invece avrebbe potuto risolvere il caso già 17 anni fa sì perché lui si dice ma fu leggerezza o qualcosa in più quindi conferma anche qui le tesi della della dottoressa Angione dice fu leggerezza o dobbiamo pensare a una mala fede dice ancora per me i fatti sono semplici senza scomodare la mafia le cose no sono semplici Jessica dice eh prende Denise la passa per la casa del padre poi di conseguenza la porta probabilmente a casa sua e la consegna a qualcuno e non si è saputo più niente lui pensa probabilmente è stata data agli zingari e ritengo che la pista di Milano sia attendibile e ne sono sicura e il metronotto sbagliò a non chiamare le forze dell'ordine ma quindi se quella perquisizione fosse stata fatta veramente o avrebbero trovato la bambina chissà o magari tracce qualcosa avrebbero trovato perché quel fatto così strano è possibile mai che anche questo passa per mancanza assoluta di riprove di indizi non credo ora il nucleo sta tutto qui Jessica assolto per insufficienze di prove questo lo dobbiamo sottolineare per insufficienze di prove ma la Cassazione fotografa il muovente lo ribadisce il muovente e il GIP credo che non possa non tenerne conto ancora continuiamo e conclude così il procuratore di Pisa gli elementi e gli indizi ci sono tutti e c'è in me dice una cosa veramente molto toccante qua dice in me c'è una profonda rabbia una mortificazione del tanto lavoro fatto nel vedere smontato un lavoro un lavoro di centomila pagine dice lui in cui io credevo e credevano anche i miei sostituti e tutta la procura e loro dico come mai si cambia così radicalmente modo di vedere cioè da una certezza assoluta a una richiesta di archiviazione io prendo atto di questo quindi dice ancora la corona secondo lui ha depistato la perquisizione perché se Denise stava lì dovevano esserci o tracci del suo passaggio o addirittura il caso poteva essere risolto quindi chi depista ha per forza qualcosa da nascondere è ovvio e da nascondere non l'aveva solo lei perché vi voglio solo solo brevemente altri video batti due tre minuti non di più da nascondere anche Jessica quando figuratevi che dopo il sapimento anche dopo anche durante il suo processo sostiene che non sapeva non sapeva che Denise fosse figlia di suo padre quando la rassazione ha stabilito il momento è chiaro e dopo le testimonianze che ci sono state circa il suo odio il fatto che affrontassi il padre dicendo pensi alla bambina spendi tutto per lei per me non spendi niente certamente questa cosa che lei lei sapeva lei sapeva cioè sapeva e quindi non è non è credibile che non sapesse come pure quell'altro pezzo ma questo ve lo devo dire scusate che mi dilungo ma quando nel processo vediamo l'avvocato frazzitti tanto vituperato avvocato frazzitta che sbotta è vero dopo tanto tempo l'avvocato frazzitti che inderoga Anna Corone e dice in merito a una telefonata con questo amico salvatore montalto dice in quella telefonata salvatore montalto in cui lei cerca di zittire no dice sto sbattendo da stamattina no da oggi la prima dice da stamattina con questa storia della picciritta da stamattina ma lei domanda perché dalla mattina doveva sbattere se lei e sua figlia nulla sapevate giustamente dice ma se tu non sapevi tua figlia non sapeva che era figlia tu non sapevi che era figlia del tuo ex marito ma perché dici a quello da stamattina sto sbattendo con la picciritta quando tu teoricamente forse avresti dovuto sapere qualcosa quando andavi a casa nel pomeriggio perché stavi sbattendo dalla mattina vedete ma questa è una cosa chiarissima perché stavi sbattendo dalla mattina lei no perché no volevo dire che telegiornale siamo sospettati si barcamenava poi ancora frazzitta dice perché se non c'entra niente dice spesso a jessica stai attento a quello che dici attento alle intercettazioni perché la mette su chi va là giustamente perché se uno non ha niente da temere cioè se mi accusa di qualcosa che io non ne so assolutamente niente perché mi devo stare attento al parlare perché questo perché e lei dice no perché sapete poi come sono le intercettazioni si sa poi succedono equivoci ma è grave signore mio e non ci sono allora questi non ci sono non ci sono elementi per me questi sono indizi perché mentire voglio dire perché mentire anche sull'orario di lavoro le cose sono chiare come dice di pisa lì dice io esaminai centomila pagine per avere questa convinzione vedete che è stata ripetita dalla cossazione e la speranza lui conclude e nella bambina di milano che una mala considerazione che gli dice comunque sia anche se fosse la bambina di milano come gli è convinto però lei nulla ricorda perché a quattro anni non si hanno più ricordi dell'infanzia del passato e quindi oggi si può presumere si può anche credere che lei lei ricordi cioè ritenga di essere sempre vissuta così senza alcun ricordo purtroppo né della mamma né della famiglia comunque è ecco un messaggio di speranza quel del procuratore di pisa alla fine perché è l'unico che coglie diciamo questo aspetto di speranza di una tenese in in vita quindi è un messaggio di speranza quindi io direi caro giudice gip faccio un messaggio di speranza anche lei ecco in base un po a tutte queste convinzioni dei dei suoi colleghi procuratori come è possibile arrivare a una schiviazione con non dico prove non dico prove provate per scarità ma ci sono delle cose che poi anche la cassazione ha cristallizzato cioè il momento chiaro il momento chiaro e preciso e tante altre intercettazioni che pongono questi personaggi comunque al centro dell'attenzione quindi quantomeno un approfondimento qualcosa non dico di essere convinti a spada tratto come lo erano eh sciuto il procuratore sciuto e il procuratore di pisa o o o la dottoressa in giorni ma bisogna dare la speranza la speranza che si sta ancora andando avanti si sta ancora lottando per andare alla verità quindi questa è la mia testimonianza di oggi ho voluto far accendere un focus diciamo sulle opinioni di questi eh procuratori generali di Marsale che hanno ereditato eh diciamo eh il nome prestigioso di Paolo Borsellino che li aveva proceduti in quella in quella gloriosa procura come martire della 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 libertà e della giustizia e quindi io credo ancora che eh ci sia spazio per la giustizia anche per Denise grazie diffondiamo questo video molto moltissimo grazie un abbraccio a tutti e a presto se ci sono novità voglio bene alla prossima